Quindi risaluto tutte e tutti, vi ringrazio per questo spazio, ringrazio anche i colleghi che hanno collaborato con me a preparare questo intervento, che soprattutto hanno redatto i capitoli del rapporto e quello delle disuguaglianze sociali non è un tema nuovo e non è nemmeno un tema di facile trattazione, quindi quello che io mi propongo di fare in questo intervento dedicato appunto alle disuguaglianze sociali non sarà quello di darvi letture puntuali dei dati, non era il mio compito né le mie formule risolutive, ma di ripercorrere insieme i principali elementi che vanno a comporre il quadro delle disuguaglianze sociali e di tracciare le principali influenze intercorrenti tra queste e le condizioni di salute, così da contestualizzare meglio sia i dati che sono già ben stati illustrati che quelli che seguiranno. Quindi proprio perché il fenomeno è complesso, è stratificato e multidisciplinare, provo a chiarire subito la prospettiva di analisi e la chiave interpretativa che abbiamo dato a questa presentazione. e dunque quindi le disuguaglianze sociali sono disuguaglianze di salute. Cominciamo con il definire il primo termine, quindi il primo passo da compiere è definire il concetto chiave di salute. Possiamo farlo partendo con le parole e il punto di vista della persona comune, quindi di quel cittadino che poi è potenziale paziente, potenziale utente di prestazioni e servizi. Alla domanda che cos'è la salute, una delle più belle e delle più significative risposte di senso comune è stata questa, cioè come prima risposta mi viene da dargli quella fisica e dopo è chiaro c'è anche quella mentale, nel senso che c'è la salute fisico-organica e la salute mentale-organica. E poi c'è la terza, quella che quando hai le prime due forse riesci in qualche modo, se non sei particolarmente disagiato da un punto di vista economico, anche a trovare una forma di salute nel complesso, cioè star bene con se stessi e star bene con chi hai accanto in questa società un po' balorda. La terza forma, se mancano le prime due, è difficile porsela anche come obiettivo. Passando dalla definizione di senso comune alla definizione ufficiale, riscontriamo facilmente molte vicinanze. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai da più di 70 anni ci offre una definizione del concetto di salute sia in senso negativo, in accezione negativa, quindi come assenza di patologie e affezioni, sia come stato positivo di benessere, quindi come completa positività delle condizioni e riconosce la salute come precondizione necessaria per tutta una serie di attività e funzionalità di tipo sociale. La salute è una precondizione ineliminabile, assolutamente necessaria per essere in grado di rispondere a compiti e bisogni, per riuscire a realizzarsi in base ai propri obiettivi, alle proprie aspirazioni e valori, ed è anche uno degli elementi base e fondanti per essere in grado di gestire autonomamente e di negoziare quelle che sono le pressioni, le domande e i vincoli posti dal contesto sociale. Da ricordare però, da sottolineare a questo punto, è anche la dinamica di circolarità che lega la dimensione della salute e le chance di vita, che lega lo stare bene e l'autodeterminazione, quindi l'assenza di malattie e il benessere di cui parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono obiettivi, oltre che precondizioni, sono essi stessi obiettivi per mantenere i quali è necessario sapersi difendere, sapersi proteggere dagli effetti delle disuguaglianze sociali e non di meno, quindi come punto di partenza, bisogna saper trovare risposta ai propri bisogni, bisogni collettivi, prima ancora bisogni individuali, che cambiano nel tempo in base a molti fattori. Io nel preparare questa presentazione avevo già inserito una slide, una sintesi grafica, che è già ben stata illustrata da Francesco Profili nel suo intervento, ma che appunto ci ricorda come questi bisogni che cambiano nel tempo possono essere socio-economici, ma non meno possono essere anche socio-anagrafici, e quindi l'esempio ripreso era appunto sfogliando le pagine del rapporto 2022, era proprio questo trend che emerge chiaramente di invecchiamento della popolazione, che è vero che è una popolazione più longeva e più in salute, ma comunque ci sono anche i temi dell'aspettativa di vita in salute, dell'aspettativa di vita comunque soprattutto nelle ultime fasi di solito con presenza di cronicità e progressiva perdita di autonomie, e quindi sicuramente nuovi bisogni e specifiche richieste per il nostro sistema di welfare. e pensando proprio al sistema di welfare e pensando agli ambiti di spesa, al budget per il welfare, si tendono a trascurare spesso nell'immaginario comune soprattutto, ma anche non solo, ahimè, le voci di spesa altre rispetto ai primi due grandi ambiti di intervento e di spesa di protezione sociale, ovvero le pensioni e la sanità. però ben più variegati sono gli ambiti che pesano sullo stato di benessere di una popolazione, riprendendo una letteratura ormai appunto nota e ampiamente suffragata, sappiamo che appunto servizi sanitari e politiche sanitarie impattano per grossolanamente conteggiato un 10% sullo stato di salute della popolazione, altri sono fattori che comunque pesano sullo stato di salute e è ben importante il peso di questi altri fattori, oltre a quelli biologici, quindi alle condizioni diciamo fisico-organiche e talvolta anche di patrimonio genetico della persona, quindi diciamo ascritte, pesano molto anche gli elementi provenienti diciamo da quello che sono l'ambiente fisico e l'ambiente sociale e moltissimo di stili di vita individuali e collettivi e quindi diciamo che investire sulle dimensioni altre risulta una strategia premiante, una strategia premiante sia in termini di risultati per la salute e per il benessere individuale collettivo sia non di meno in termini di giustizia sociale e facendo un brevissimo accenno a questo tema, quindi al tema della giustizia sociale è fondamentale ricordare che consapevolezza non è sinonimo di tutela, dunque il benessere e l'autodeterminazione appunto non sono questione di libera scelta, di volontà, ma appunto saper rispondere alla domanda che cos'è la salute, saper rispondere così bene proprio riprendendo tutti gli elementi chiave riportati dalla definizione ufficiale, saper riconoscere quindi il benessere come stato plurale, capire che sono implicati aspetti non solo fisici e materiali ma anche di piena realizzazione di sé non implica il poterli realizzare, non implica riuscire a scegliere, a individuare e a portare avanti e quindi a seguire stili di vita virtuosi e realmente tutelanti. Quindi ancora può non essere possibile e non per volontà ma proprio per risorse a disposizione accogliere, diciamo avere accesso alle informazioni più strategiche o riuscire a fare richieste, quindi ad avere accesso alle misure di supporto, fare richiesta di intervento in caso di necessità. Quindi velocemente passiamo alla seconda questione e cerchiamo di definire che cos'è la disuguaglianza sociale che comunque abbiamo visto è così strettamente legata poi alle disuguaglianze di salute e allo stato di benessere. Le disuguaglianze sociali sono mutate nel tempo, se quelle di tipo a scritto, quindi le disparità tradizionali legate a quelle caratteristiche più direttamente legate all'età anagrafica, al genere, all'appartenenza etnica negli anni si sono attenuate o comunque formalmente sono state combattute, sono state messe in campo molte misure per riconoscerle e attenuarle, non così è per le cosiddette disuguaglianze fattuali che anzi stanno emergendo, stanno conquistando nuovi spazi. Ricordiamo sicuramente quelle legate alla sfera economica lavorativa, quindi il lavoro povero, il precariato, le fragilità di carriera legate anche ai problemi della conciliazione e quelle legate alle risorse culturali, povertà educativa in primis, ma anche per esempio il digital divide che tra l'altro poi richiama in campo anche disuguaglianze di tipo culturale ma anche di età, perché comunque colpisce molto di più alcune fasce anagrafiche della popolazione. Quindi in questo panorama di disuguaglianze che cambiano ci può aiutare ad orientarci di nuovo una figura assolutamente nota e spesso usata sia in ambito epidemiologico che di sociologia della salute che è il modello dei determinanti di salute di Whitehead e Dalgrin e che ci mostra come i diversi elementi che entrano in gioco nel definire percorsi di vita e di salute possono essere ordinati lungo un continuum che va dal punto centrale, quindi dal singolo individuo con le sue caratteristiche ascritte a via via salendo nelle sfere più esterne, a stili di vita individuali, risorse relazionali, gli ambiti di vita e di lavoro e quindi di nuovo tutte quelle aree tematiche che ritroviamo nel nostro rapporto dall'abitare all'educazione, dall'alimentazione intesa come accesso a cibo in qualità e quantità adeguate, al lavoro quindi con il lavoro, il lavoro povero, la disoccupazione, l'inoccupabilità, quindi diciamo tutte le risorse fino ad arrivare alla dimensione più esterna e più macro delle condizioni politiche, sociali ed ambientali e qui abbiamo visto bene come eventi anche apparentemente e geograficamente molto distanti da noi come la guerra in Ucraina o la pandemia poi hanno ripercussioni fino alla sfera centrale, fino proprio a manifestazioni quasi appunto di malessere fisico. Passiamo e cerco veramente di volare dalle dimensioni alle risorse, sintetizzando al massimo e semplificando, le risorse in gioco sono fondamentalmente raggruppabili in questi tre gruppi, quindi abbiamo risorse economiche, risorse culturali e risorse sociali. Nel disegnare la carta di identità personale quindi dei vantaggi e degli svantaggi i capitali che contano sono innanzitutto e quello che è l'ambito più facilmente identificabile, le risorse economiche, il capitale economico che è costituito, lo ripeto anche se abbastanza superfluo dirlo, dal reddito, dai beni materiali e che ben quindi si presta ad essere misurato perché facilmente quantificabile in termini monetari, quindi in denaro e rappresenta l'ambito in cui più facilmente anche si interviene a livello di politiche sociali perché un intervento su questo campo non implica strutturare dei servizi ma può essere diciamo tradotto in prestazioni monetarie. Il problema e il punto è che comunque l'ambito della risorsa economica non è l'unico quando si parla di disuguaglianze e quindi non è l'unica sfera su cui intervenire, su cui è importante intervenire per risolvere le dinamiche di disuguaglianza sociale perché appunto altre due sono le risorse chiave, quella del capitale culturale che corrisponde all'insieme delle proprietà, delle qualificazioni e delle esperienze culturali di cui ciascuno dispone o perché trasmesse incentivate dalla famiglia o perché conseguite durante il percorso scolastico o infine perché acquisita attraverso la frequentazione di determinati ambienti. Questo capitale può facilmente riconvertirsi in capitale economico quando è tradotto in credenziali educative e questo ci chiama di nuovo in causa il tema della povertà educativa perché appunto il fatto di avere difficoltà in termini di formazione, il problema di non riuscire a portare al compimento il proprio percorso di studi, oltre a rappresentare in sé per sé un elemento di vulnerabilità perché non permette di avere accesso a tutta una serie di informazioni, si traduce facilmente in posizioni lavorative più precarie, meno tutelate e quindi diciamo ha una ripercussione e ha un legame diretto con il lavoro povero, quindi povertà educativa e lavoro povero e con l'accesso ai servizi inteso come quella capacità o meglio non capacità di lettura di messaggi, di informazioni e di prevenzione, di accesso a percorsi di prevenzione. Infine risorse culturali sono quelle che possono essere ridefinite, chiamate anche capitale sociale e indicano, vanno a indicare l'insieme di relazioni sociali di cui la persona dispone e che può mobilitare e quindi quello scenario, quel tessuto di reti sociali che sono quella familiare in primis ma anche quella amicale ma anche il vicinato e la comunità e sono risorse che proprio a partire anche dalle trasformazioni demografiche illustrate prima si capisce bene come in una società dove le famiglie hanno una struttura sempre più stretta e lunga possano essere più difficili da attivare, che possano essere risorse più scarse anche e soprattutto pensando ai contesti di vita, alla qualità dei contesti di vita in cui le persone si muovono e interagiscono. Quindi gli stili di vita sono in qualche modo. Chiedo scusa, alla dottoressa Mascani bisognerebbe concludere. Sono all'ultima, sono all'ultima slide. Benissimo, grazie. Quindi, grazie. Stili di vita sono l'esito, diciamo, sia di una dimensione, di una risorsa socio-economica ma anche appunto, l'abbiamo appena visto, risentono dell'influenza del gruppo di appartenenza, del patrimonio culturale disponibile e quindi, diciamo, è l'insieme combinato degli elementi che permette di orientarsi, di riconoscere, di riconoscere, evitare gli elementi di rischio e di valorizzare le chance di vita. Per concludere, quindi, se le disuguaglianze sociali sono disuguaglianze di salute, le risposte si possono e si devono trovare nel PNRR e devono riguardare la salute ma non meno la coesione e l'inclusione sociale. E con questo vi ringrazio e spero di essere stata nei tempi. Grazie. 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 Grazie.